Allora, siamo qui in compagnia di Francesco Porrello. Ciao Francesco, per me è un vero piacere poter intervistarti perché, diciamo, un esperto di TikTok io ce lo dovevo avere nelle mie interviste e sinceramente sono veramente felice di poterti intervistare. TikTok è un argomento molto caldo, soprattutto da un anno a questa parte, e allora perché no? Ho pensato di poter scambiare due chiacchiere anche con te. La videochiamata praticamente viene da Brescia a Gela, quindi è una, diciamo, dalle due parti estreme dell'Italia, sempre per la mia, diciamo, rubrica a proposito di, quindi a proposito di, parleremo di TikTok. Allora, Francesco, partiamo subito con la prima domanda. TikTok è un canale, quindi un social media nuovo. Inizialmente pensato per i teenager, si chiamava Musical.ly, quindi era, diciamo, giocare con la musica, appunto, poi trasformato in TikTok, scaricato milioni e milioni e milioni di volte l'anno scorso e ancora adesso continua ad essere in continua crescita. Ecco, un canale del genere può andare da supporto, ad esempio, a strategie di marketing, di social media marketing per delle aziende? Cioè è un social media solamente per il divertimento e per i teenagers oppure c'è un aspetto aziendale? Si può, diciamo, provare a fare una strategia di marketing aziendale, quindi, con un canale del genere, con TikTok? Allora, assolutamente sì. Tuttavia, partiamo dal contro, perché si vede che TikTok è assolutamente esploso in questi mesi, però partiamo dai lati negativi, nel senso che tutti ne straparlano, io stesso ne straparlo, però qual è il problema? Il problema è che TikTok, rispetto alle altre piattaforme che già esistono, è che fondamentalmente a livello business si sa già come sfruttarle, parlo di Instagram, parlo di Facebook principalmente. Certo, certo, certo. TikTok, quello che, diciamo, è la barriera all'entrata è la creazione di contenuti, perché di base, mentre per un Instagram o un Facebook aziendale si sa già di base che tipo di contenuti un'azienda può produrre, perché fondamentalmente quasi tutte le nicchie già sono su Instagram. Quindi, anche a livello di studio di mercato, quando un'azienda vuole avviare una strategia di social media marketing che la faccia internamente o che la affida a un professionista esterno, abbiamo già un panorama di quello che può essere quello che si può fare. Su TikTok, invece, manca, che manca questo concetto. Quindi, da questo contro della creazione di contenuti, che magari dopo approfondiamo un attimo e cerchiamo di capire come si può fare, nasce un'opportunità di mercato, che è quella del funzionamento. Perché, esatto, se ad oggi una, se ad oggi, prendiamo per esempio una gelateria, ok, un esempio a caso, se ad oggi non ci sono gelaterie su TikTok e una gelateria anche locale decide di buttarsi su TikTok e fa un milione di follower, perché è possibile, certo, quale altro social permette di farlo gratis, tra virgolette, senza investire in advertising? Ma neanche investendo in advertising, probabilmente, una gelateria locale potrebbe arrivare a quei numeri lì. Esatto. Dunque, diciamo che il paradigma, cioè il concetto di strategia di marketing, di social media marketing su TikTok ad oggi, va pensato in maniera molto differente rispetto a come la possiamo immaginare oggi per Instagram o per altri social. Perché, mentre per Instagram e Facebook, tutti sappiamo che ormai sono dei social per il business di base, cioè un'azienda che si butta su Instagram e su Facebook lo fa perché vuole avere immediatamente e in maniera anche misurabile un ritorno economico. E si può fare, lo sappiamo che si può fare. Su TikTok oggi, invece, quello che le aziende possono fare a livello organico di creazione di contenuti è andare a posizionarsi. Quindi fare proprio un vero e proprio lavoro di branding, di far conoscere la propria azienda in un canale, in un contesto completamente nuovo. Che ci tengo sempre a sottolineare il fatto che non vanno messi in contrasto, cioè non c'è un conflitto di interessi tra Instagram e TikTok. Per quale motivo? Perché sono fondamentalmente due piattaforme differenti. Molte persone chiedono, ma TikTok sarà il nuovo Instagram, il nuovo social, Instagram fallirà? Secondo me assolutamente no, perché siamo parlando di due concetti diversi. Perché TikTok fondamentalmente cos'è? È intrattenimento. Ed è probabile che rimanga così anche in futuro, perché è una cosa che funziona, è una cosa nuova che su altri social non c'è. C'è proprio il concetto di... partendo da Musical.ly, c'erano i balletti, eccetera, cose che adesso ci sono ancora, però la piattaforma si sta trasformando. Cosa che è dettata anche principalmente dagli utenti. E questa cosa, che c'è molto intrattenimento, coinvolge molto di più anche gli utenti a creare dei contenuti. E qua tocchiamo un altro tasto molto importante per le aziende, che è quello degli user generated content, cioè dei contenuti creati dagli utenti. Ecco, qual è un contenuto di qualità? Come si può definire un contenuto di qualità su TikTok? Allora, un contenuto di qualità è un contenuto che racconta qualcosa. Ok. Perché, cosa che ovviamente vale un po' per tutto, anche per... in generale, per la comunicazione. L'obiettivo di un'azienda è quello di raccontare la propria azienda, il proprio brand. Però su TikTok, per riconoscere un contenuto di qualità, a parte i numeri che ottiene, perché è davvero molto meritocratica la piattaforma. Nel senso che, se un contenuto è coinvolgente, proprio a livello di algoritmo, il funzionamento, valuta il coinvolgimento degli utenti andando a sommare le interazioni. E se tu tieni tante interazioni subito, o comunque in un breve lasso di tempo, il tuo contenuto esplode. Quindi, davvero, puoi arrivare a una copertura organica di milioni di persone. Assolutamente. Una cosa straordinaria. Quindi, contenuto di qualità su TikTok vuol dire intrattenimento e coinvolgimento per gli utenti. Ok. Fondamentalmente. Quindi, per un'azienda, cioè, se un'azienda ad oggi vuole, tra virgolette, comunicare all'interno, appunto, di un canale così, diciamo, in crescita come TikTok, quindi mi confermi che lo può fare, ma trovando quella che è, appunto, una chiave di comunicazione adatta per quel canale. Altrimenti, altrimenti, cioè, ovviamente si deve essere coerenti con il canale con cui si vuole comunicare, altrimenti non c'è partita, nel senso che i vari, appunto, i vari utenti non capiscono che cosa vuoi comunicare o come lo vuoi comunicare, ecco. E quindi TikTok ha una sua chiave di lettura. Poi, diciamo che ad oggi, io ad un'azienda, se parliamo di strutturare una strategia su TikTok, ovviamente è una cosa che magari propongo solamente nel momento in cui c'è già una presenza strutturata anche su altri social. Perché, ovviamente, sugli altri social, cioè, in fin dei conti, quello che conta, scusa il gioco di parole, quello che conta è avere dei risultati, cioè un ritorno sull'investimento in immagine. Cosa che su TikTok, ad oggi, non è così misurabile, in termini di ritorno vero e proprio attraverso quella piattaforma. Quindi, il fatto di essere su diversi social e sfruttare TikTok come canale per andare a raccogliere un pubblico, andare a prendere un pubblico che non è neanche più sugli altri social. Molti delle persone che oggi sono, che usano TikTok, piano piano si stanno spostando dagli altri social, perché su questi non trovano un motivo per starci. Ormai vedono solo pubblicità, vedono solo cose troppo un po' serie, forse, e quindi vogliono intrattenimento, vogliono sbagarsi. E quindi è questa un po' la chiave che un'azienda dovrebbe usare su TikTok. Avendo poi però il supporto anche di altri canali, dove effettivamente si può andare, diciamo, a concludere, passare il termine. Guarda, collegandomi a questa tua, a questa cosa che hai appena detto, ci sono tantissime persone che adesso seguono la tua community, perché tu hai creato una community, appunto invito anche chi ci ascolta a seguire TikTok Advanced, che tratta solo ed esclusivamente di TikTok. Quindi chi è interessato alla tua community è interessato principalmente a stare su un canale, come hai detto tu, che è più libero, più tranquillo, dalla solita, diciamo, come dire, dal solito Instagram e Facebook, che ad oggi, come hai detto, ci sono dei veri e propri contenuti un po' pesanti in alcuni sensi. Mentre chi segue TikTok vuole un po' di libertà, di tranquillità, di divertimento. Ecco, di che cosa tratta la tua community e come fai a gestire i tuoi utenti? Cioè, quali sono le tecniche che utilizzi per intrattenere, appunto, il tuo pubblico? Ok, allora, di base quello che stiamo facendo, perché ovviamente la community l'ho creata io, ma ho il supporto anche di Matteo Cristiano, che ci tengo a citare, che si stanno dando una grande mano e tutti insieme stiamo lavorando per creare questa grande realtà. Da cosa è nata la community? Dal desiderio di colmare un gap di mercato, chiamiamolo. Perché? Cioè, da un lato c'è la mancanza di persone che possono dare formazione e dare consigli e supporto su TikTok ad oggi. Dall'altro c'è una grande richiesta perché le persone non sanno da dove partire. E' buono! O quelli che stanno partendo non capiscono cosa devono fare e come devono farlo. Quindi l'idea è nata soprattutto per quella, ma anche per un motivo, diciamo, un po' più profondo, anche un pochino più personale, che è legato alla questione di metterci la faccia. Ah, perché? Perché rispetto ad Instagram, dove diciamo che le persone, tra virgolette, normali, quelle che non lo usano per lavoro, ma lo usano solo per consumare contenuti, hanno difficoltà a mettere la faccia su Instagram perché è una cosa davvero seria. Io stesso, quando ho iniziato a fare delle storie parlate, ci ho messo un bel po' a capire che dovevo fregarmene di tutti quelli che erano i commenti, gli opinioni di amici, ex amici, ci tengo a sottolineare, perché basilarmente c'è davvero questa pressione social, pressione social, che uno non deve esporsi, ma che deve essere tutto bello e perfetto. Quindi l'idea era quella proprio di creare questa community online che potesse essere un punto per stimolare tutte queste persone che sugli altri social non hanno avuto modo di esprimere loro stessi, anche su TikTok. Perché TikTok, basilarmente, essendo che sei tu che devi creare i contenuti, puoi fare un post di un altro, è fondamentale liberarsi di tutte le catene di paure, di limitazioni che uno ha e farlo in un contesto di persone che ti aiutano, ti supportano a farlo, diciamo che sta spingendo molte persone che sono all'interno a trovare la propria chiave. La propria libertà. Come gestiamo la community? Allora, basilarmente, noi siamo su tutti i social, andiamo da, siamo fondamentalmente su TikTok, però abbiamo un grosso gruppo Facebook che sta crescendo, dove abbiamo tutto un percorso gratuito di formazione e davvero un altissimo coinvolgimento tra post, support, eccetera. Abbiamo un gruppo Telegram più ristretto, siamo su LinkedIn, siamo su Instagram, di base siamo un po' su tutti i social, proprio perché l'idea è quella di andare a prendere tutti i diversi target di persone che vogliono sfruttare TikTok. E diciamo che vogliamo che questa community diventi anche, è cosa che già sta succedendo, un punto di incontro tra professionisti ed aziende anche. Perché nel momento in cui stanno iniziando ad arrivare già da parecchio tempo professionisti che vogliono magari sviluppare il proprio personal brand, titolari di aziende che non sanno come sfruttare TikTok per la loro azienda, ecco che qua possono trovare un ecosistema in cui possono capire come poterlo fare. Quindi questo è un po' il mio concetto di community. Come lo gestiamo? Esattamente operativi 25 ore su 24 ogni giorno per rispondere a tutti, per dare supporto, però si sta creando davvero un bel team, una grande famiglia e soprattutto ricevere poi i messaggi di persone che ti dicono grazie a voi, grazie ai vostri consigli, ho trovato la mia chiave, ho raggiunto questi risultati. È davvero... Penso sia la cosa più soddisfacente che... Un'ultima cosa proprio al volo. Ma esiste l'influencer di TikTok? Assolutamente sì. Esistono influencer che sono nati su TikTok e non erano su altri social, perché hanno trovato con TikTok il loro modo di esprimersi che sugli altri social non era, diciamo, il contesto giusto. Quindi su TikTok sì, l'influencer... E quindi ha trovato? Assolutamente sì. Quindi ancora c'è speranza per i cari influencer di poter diventare appunto... Però devono un po' farsi... liberarsi un po' e capire che TikTok è davvero premia chi ha qualcosa da dire, chi sa comunicare. E diciamo che crescere con i bot e tutte quelle cose lì su TikTok è praticamente inutile, non serve a nulla. Cosa che su Instagram invece molti ci hanno vissuto per tanto tempo, ora che c'è molte costruzioni. E esatto, su TikTok invece assolutamente no. Quindi si premia davvero chi ha del talento su TikTok. E questo è benissimo. Il talento è chi riesce a essere se stessi, ecco. Assolutamente. Francesco, ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente un grande. Ho imparato tantissimo, devo dire la verità. E grazie per le tue kick, per i tuoi consigli. Seguiamo Francesco appunto con TikTok Advanced nei vari canali, appunto ha detto Facebook, Instagram e ovviamente su TikTok. Scopriamo un pochettino questo canale, questo nuovo social media che effettivamente sta crescendo tantissimo, ma che dà un'altra chiave proprio di lettura di social network, ecco. E ti ringrazio tanto, spero di collaborare in altre, diciamo, in altre situazioni anche sempre in ambito social media e marketing. Francesco, mi fa piacere. Grazie mille Lorenzo. Va bene. Grazie Lorenzo, è stato un piacere. Ciao Lorenzo, ciao a tutti ragazzi.